noi qui presenti entità a attraverso corrado piancastelli a cura di giorgio di simone domanda noi qui presenti dovremmo essere logicamente di evoluzione inferiore alla tua oppure è possibile che vi sia qualcuno di evoluzione pari alla tua entità a tra la mia evoluzione e la vostra possono esserci o non esserci delle differenze tuttavia qualunque possa essere la vostra evoluzione io ho in più due vantaggi uno è di avere attualmente una conoscenza maggiore della vostra l'altro è quello di poter verificare questa conoscenza dalla mia posizione e di poter quindi dare a voi la parte migliore quella più utile più valida più intelligente più originale cioè darvi qualcosa che voi con la vostra evoluzione o nonostante la vostra evoluzione non potreste avere perché non potete attingere all'altro mondo da vivi quindi in pratica può anche verificarsi che l'entità presente sia meno evoluta di qualcuno dei presenti e che nonostante questo ne sappia molto più di lui perché è vivo in quanto al fatto se effettivamente tra voi vi siano spiriti che abbiano una evoluzione maggiore della mia a questo è difficile rispondere in quanto che impegnerebbe da parte mia una valutazione discriminatoria fra me voi che io non ho mai fatto